Superata la settimana di ricerche costanti, ma Riccardo Branchini ancora non si trova. Nove tracce del 19enne di Acqualagna di cui si sono perse le tracce il 13 ottobre, con l'ultimo segno tangibile in quell'auto parcheggiata ai piedi della diga del furlo con all'interno indumenti e telefonino. Le ricerche vanno allentandosi, ma la prefettura ha comunque disposto la presenza di un presidio diurno dei vigili del fuoco per monitorare il deflusso delle acque e proseguire le ricerche con i droni. Una pista di ricerche che presuppone un insano gesto, ma non si esclude ancora quella dell'allontanamento volontario per il quale la famiglia Branchini ha dato mandato all'avvocato pesarese Elena Fabri del controllo delle segnalazioni con un numero dedicato. Quattro quelle al vaglio d'esame di presunti avvistamenti fra Pesalo, Salerno, San Severino Marche e la stazione di Bologna. Un allontanamento che resta alla speranza della famiglia che attraverso la madre Federica Pambianchi ha rivolto un disperato appello alla trasmissione Raichi L'ha Visto. Ricchi, ti prego e ti scongiuro, ritorna a casa. Sono distrutta senza di te. La mia vita non ha senso senza di te. Qualunque cosa sia successa, non avere paura. L'affrontiamo insieme. Devi stare tranquillo, ti puoi fidare al 100% di me. Ti aiuto in tutti i modi possibili. Non so che cosa ti sia successo, ma la mamma è vicino a te. Ti devi fidare, devi stare tranquillo. Io sto male senza di te. Ho bisogno che ritorni a casa. Ho bisogno che ritorni da me.